A Magliano-Sabina le attività non si fermano ma continuano così come progetti ancora in embrione. Come ci ha spiegato il sindaco di Magliano, Alfredo Graziani, ci sarebbe l'idea volta alla produzione di energia elioelettrica di creare insieme al territorio di Gallese una piccola centrale elioelettrica. L'acqua del torrente Riofrat è stata la prima acqua potabile portata a Magliano-Sabina. Inoltre, in loco, ci sarebbe una stazione di proprietà del comune Sabino che, ha continuato il sindaco, potrebbe e dovrebbe essere rilanciata e trasformata dall'azienda appaltaterice in un centro informazioni. Continuando a parlare di risorse che possono essere sfruttate a tutto vantaggio di una maggiore produzione energetica, ci sarebbe anche l'idea di sfruttare il dislivello esistente tra il centro di Magliano e il luogo di depurazione. Il progetto, ancora in fase di studio, dovrebbe consistere nell'unione delle diverse fognature, per poi mettere una turbina che consenta lo sfruttamento dei liquami, che in tal modo saranno trasformati in energia. Ma le iniziative non finiscono qui. Anche per il settore sanità ci sono importanti novità. Sebbene Magliano-Sabina sia stato uno dei centri che maggiormente ha risentito dei forti tagli, risulta ancora oggi un centro altamente specializzato. La Casa della Salute vede ampliare entro la fine di marzo i servizi offerti con l'apertura settimanale di un ambulatorio ortopedico, uno odontoiatrico e uno di oncoematologie e radioterapia.